ho lasciato la telecamera accesa scusatemi ragazzi scusatemi stavo facendo diciamo ecco uno spuntino avete visto la mia tazza di bulla bellissima vero? sono già in vendita e vi lascio il link in descrizione qua sotto il video per poterle andare a comprare quindi se vi piace compratela adesso oggi siamo in un nuovo video di Roblox aspettate chi è qui? Amelie! e oggi siamo sempre in un nuovo video di Roblox dove regaleremo i Robux per la metà qua sono già utilizzati per l'altra no infatti sono tantissimi e oggi volevo iniziare a giocare a Brookhaven per regalare i Robux ah ragazzi un annuncio importantissimo è che tra un po' uscirà un mio nuovo film quindi preparatevi non so di preciso quanto però vi dico solo che tra poco quindi questa notizia è già molto molto importante e adesso cominciamo cerchiamo di trovare qualche nostro iscritto entrando su Brookhaven eccoci qua mi raccomando la tazza bellissima allora ragazzi sono entrati i miei genitori oh ciao cosa stai facendo qui? dove sei? ehm ehm sto ragazzi che dico ehm ehi non so cosa dico sei tu? sei io sono io non mi vedi? che salta? si che cavolo stai saltando? perché mi piace saltare? ragazzi perché non sai come giocare qua? e sto allora c'è Emily qua Ami ciao ciao Ami e sto cosa fai qui? hoppa avete visto? solo io ho questa funzione voi non l'avete sto giocando e cosa stai giocando? ehm ci stai saltando anch'io ragazzi eh che bello guarda 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 tank avete visto? Emily fai vedere come funziona questo gioco è un mio fan è tuo amico ciao è un mio fan adesso gli salto sulla testa no dai facci vedere come funziona questo gioco ehm allora ciao fan come si scrive qua? vai sul chat oh posso scrivere ciao perché sono salita sulla pianta ciao come spegnerlo? ok diciamo che Emily dai facci vedere come funziona questo gioco se salto prendo punti no e come funziona? e se salti salti e basta andiamo andiamo vi faccio vedere casa mia di questo gioco e dov'è? seguitemi ok ti seguiamo mamma dove sei? oh mi sono scosta dietro la tenda oh andiamo dietro aspetta perché non sono capace di camminare io vado eh ciao ciao aspetta aspetta ciao come si cammina? dove siete? ma Ami ma tu sei con hoverboard Amelie c'è fan che ci persegue? no Amelie non va così cioè non hai una macchina? ehm si ce l'ho beh direi ma sei tu perché devi sfruttare vecchia hai visto? hai macchina? ah anche io voglio una macchina così dove siamo andati? che figata Amelie tu sei così ricca hai visto Targa? si c'è scritto Amelie no figata che bello dai Amelie dove andiamo? eh andiamo casa mia no ma che figata racconta a tutti i miei amici che ho figlia super ricca su Roblox si ma perché non vi ho venuto ah ecco perché c'è scritto ai miei genitori? ehm stai mandando secondo me un segno a qualcuno no no si? no no Malvina cosa dici? che bello quando tu affilia la macchina no ma guarda sotto ho la patente come esco fuori scusate ah si è davvero ascolta ma tu hai la patente? fammi vedere la patente oh se no se no io ti denuncio trovarmi una cosa come si esce? mi fatti uscire da questa macchina per favore devi saltare ecco la patente la patente come si salta? puoi vedere come si salta? come saltavi prima? ma io schicciavo qualcosa qua wow davvero oh figa ecco la patente oh la patente dove? nel gioco qua la patente qua la patente in mano ciao ti vado sulle spalle e questo tizio perché ci persegue? è perché oh oh ti banno eh e sarai tutto bagnato dove andiamo? è a casa mia dove è la casa tua? è a casa mia la devo devi insegnarli a cosa? v-veatirli? v-veatirli che cavolo significa v- vestirli magari oh ma guarda come sei vestito tu Maranza vabbè io non so che dire ma dove sono io? fatemi vedere perché non mi vedo oh sono in macchina sposto la macchina va che voi qua già fate un milione di infine no scusa scusa ragazzo non c'è sto scherzando non ti voglio offendere non sono così sono sono molto bravo tu entra nella casa di Amelie wow Amelie lui può entrare con noi? no sì certo che no ma possiamo banare lì dai no no non sto scherzando dai tac oh questa è la tua casa? non d- dove sono finito? guarda ce l'ha il suo computer dove? ma dove sei? la soggiorno in alto vai su e aspetta perché mi sono persa mamma posso dire io direi di manarla che bella casa chi è questo? è sempre lui come hai fatto entrare sconosciuto in casa? non è sconosciuto come non è sconosciuto? io non lo conosco oh mi sono seduta nemmeno io dove sei seduta? sul tavolo wow questo può mangiare? ma stavo rinistando ehm sì può mangiare ma chi è questo tizio? è tuo fidanzato? ci sono fan della principessa Girgie ah? chi è? lui è fan di principessa Girgie? chi è Girgie? non lo so io conosco solo Elisabetta stavo guardando il film di lei allora cancellati da qui via dai il calcio di culo no è un mio fan non si può cacciarlo via è svenuto fan amici come si chiama? come si chiama? allora vi ho preparato da mangiare tenete e poi si c'è anche mangiare qua ma perché sei seduta sul tavolo maleducata? oh dove? ecco allora mangiamo e come mangio? e non può è preparato anche per tuo fan dai sediti e mangi con no ma chi è questo tizio? ma come è? non devi capire ma guarda come è prepotente si non sa mangiare come si chiama questo tizio? premium only brie oh buon appetito allora buon sarebbe bello fare un collegio di danza su bruc si davvero bruc è bruc è bene e perché io scelgo e non si scelge? buon appetito non posso scelgere niente io mi mangio una mela anzi no mi prendo il pop corn come fai a prendere il pop corn? come mangi? come mangi? qua c'è salto, ridere, spasmo non prendere spasmi sul gioco devi schiacciare lo zaino ma perché c'è scritto fanami lì? oh non riesco a capire allora mamma un segreto è allora tu praticamente ti devi alzare ok? dal tavolo come si alza? adesso lo ammazzo guarda che ce lo fucile no spara scusa, scusa non sparare non ho risposto io mi sto scherzando non sto spando apposta torno scusate no 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 facciamo buoni genitori amore ti regalo i fiori visto che non mi regali ti regalo te cosa lui ha scritto? amo? chi ha scritto amo? ame dopo andiamo a mettere ora che tiro fuori il fucile di nuovo oh sparalo allora mamma mamma guarda un trucco un trucco allora tu praticamente ti devi alzare no? saltando ah ecco lui ha barca io faccio il suo amico dai amico andiamo dove andiamo? quanto sei? allora lui ha barca dopo la barca allora ma mamma tu ti devi alzare alzati 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 che dobbiamo andare non hai capito ancora ok stai ferma andiamo nella barca e adesso questo amico ha la barca io sono il suo amico si e adesso tu devi schiacciare quel lomino che è tipo seduto e poi schiacciare onda come si fa? allora tu devi schiacciare lomino che è tipo seduto a destra a destra sotto lo zaino e poi devi schiacciare onda eeeh onda che cosa faccio? oh guarda me cosa? guarda guarda onda non ti saluti adesso adesso devi schiacciare e sdraiati no io voglio sdraiati oh sdraiati oh ciao sdraiati 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 oh guarda dove sei? sdraiati dai andiamo andiamo a guardare qualche amelie ma come si può spegnere spazio? come si fa qui? oh io posso piangere guarda io piango colpito no no io posso ridere guarda strisciare papà è cattivo io dovrei andare a fare una cosa con il mio amico su un gioco ma perché continui a sdraiati? bati le mani bapà mamma oh bapà mamma io ma perché? ma dove hai fuggito la casa? come mai che sono fuori? mi sono buttata dalla finestra? no e sto sempre con le mani in alto adesso? io faccio boi guarda visto che loro stanno là bene ragazzi io direi di concludere il video qua spero che vi sia piaciuto andate a vedere il market dove ci sono questi bellissimi oggetti anche la mia maglietta guardate che bella bellissima ah e seguitemi anche su instagram e facebook perché è uscito un nuovo short della mia nuova canzone AI quindi fate tantissimi video su questa nuova canzone e ci vediamo in un prossimo video ciao no aspettate ragazzi e ciao aiii 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 aiii